Ciao, sono un ingegnere e questo è il mio modo di lavorare in legno. Oggi costruiamo… Ciao a tutti e benvenuti nel mio garage. Sono un ingegnere e mi piace costruire oggetti che funzionano. Sono appassionato di scienza, di design e di project management e utilizzo questi concetti per realizzare oggetti più resistenti, più resilienti, più funzionali e più pratici. Mi piace costruire mobili per bambini e giochi scientifici, ma anche attrezzature che utilizzo nel mio laboratorio. Ho aperto questo canale per condividere le mie passioni, ma anche perché credo fermamente che nello scambio di idee possa esserci una crescita reciproca. Quindi iscrivetevi e buona visione. Cliccate qui.